Marco come stai? Buonasera, sto bene perché finalmente dopo due anni posso guardare in faccia questo stronzo. Sei goduto cinque minuti di celebrità? Continua, allora tu vuoi continuare? Io mi aspettavo da te perché io sono uscito, mi aspettavo che tu dicessi sì, ho detto qualche cazzata in più, beh tu ne hai dette molte però, ma io non le ho dette a te, sei stato offensivo con gli altri concorrenti, hai dato del pedofilo, hai dato dell'omosessuale, hai tirato fuori qualsiasi roba, non tirare fuori cazzate, io a te non ho detto niente, Allora ti compatisco, ho fatto un reality con tua moglie, mi sono confrontato con tua moglie, ma tu che cosa vuoi? E rimani un maleducato, un incapace, sai solo insultare, sai solo insultare gli omosessuali, sai insultare le donne, sai parlare male dietro le spalle, Sei quello che sei Non ti chiami Ricky, non ti chiami Ugo, mettitelo nella testa Marco, ma sei in andropausa galoppante, devi stare calmo, dai Allora Ricky, puoi dire scusa a Ricky, per la tua reazione che è stata a un certo punto la mia autosporta Pasqua, ieri, venite cari? Oooo, bene Oooo... Oooo... Bene.. Oh vai.. E vai! Bravo Bene Sono benissimo Bene Bene Alzio Grazie SIGMEMIA STO veio il SIGMIA TI I